C'è un po' di nomi io in privato Cici grazie grazie Raga facciamoci il camion slurp Finita Ok sei live Cici ci siamo Siamo on eh ci siamo? Non tagli i colpi Non tagli i colpi Venite tutti quanti qua Ah cazzo io non sto Vieni vieni che ce la fai Arriva arriva Andiamo via Jump andiamo nell'altro edificio questo qua davanti Dove sta la jump? Qui dove sono io Ragazzi il cavo è da lootare Ci stanno tutte le slurp Ah si vengo C'abbiamo gente pure qua eh Dove stanno le slurp? Qua al cavo Fingate Sta pure in pompa Viola Guarda Questo me li piglio proprio qua Ok perfetto Questa la porta Si stacca la porta a loro E dai E ci stanno aspettando di la Che pezzi del car Che pezzi del merda Sto arrivando Che pezzi del merda oh Cazzo Scendi 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 Ma che culo che sono riuscito a scendere questo Mi stanno pusha Mi stanno pusha Ma chi insetti questa pusha? Si Porco addio sono in due No dai non ci credo Dai ma non ci credo sono quelli di prima Ma che cazzo Stavano guardando la live questi Non ci credo Questo è un wash Va 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 No no stai qua Rista qua non c'è andare Matteo Questi secondo me stanno guardando la live Bisogno che sparano a cazzo dei cane E te prendono e te vedono Si Ah io passo verde qua Ma porca madonna Com'è possibile Vabbè se adesso sono andato stai è palese Si se sono andato stai è palese Si se sono andato stai è palese No non lo sarò ora Usalo quando stai tipo a 10 Si si ma non è problema Ma stanno ancora in safe Ma stanno aspettando che vieni anche tu Perché lo sanno che sei qua Si stanno a conquista il barile Potrebbero essere loro Vado? Prova prova Ah c'è pure il reboot qua Ottimo La mia è sotto Di là La scheda Indietro Si vado No è incredibile Stanno a venire qua No ma non penso D'altro dove sta? Basta C'è due te tre Vuoi fare reboot qua Al cambio No no lì ci sta gente Vai prova Ma secondo me mi conviene tipo Da qua a fare reboot qui Ma qua secondo me ci riesci Ci stanno quei pezzi di merda Cioè si può provare almeno Male che va a scappi con il flusso È posato da qua Ok lì dietro c'è un po' di loot se volete Un po' di loot vostro Vai via scappa Vattene lontano Sì sì vado lontano Vado via vado via Eh una maronna Non c'è un rampino Non c'è un cazzo qua No stanno arrivare Che è impossibile Dai ma che vuoi dire Eh hanno sentito il reboot Va bene sarà normale No no Occhio Matteo che stavano là eh Dove? Eh l'ho sentito qua io Allora qua ci sta uno shieldone Se lo volete questo qui Se vi va Qua c'è uno shieldino Sentivo il rampino Eh non è nostro È nostro credo Un cazzo di parto sta partita Qua c'è questo se volete qua Sento gente? No no Vado verso la safe vado a vedere Se c'è qualcosa Fai da noi Eh stanno sicuramente Sopra l'isola Sicuro La c'è un team Sull'isola No non l'hanno conquistata Ancora la bandiera Ci vogliamo provare? Faccio un altro shieldini Ah vabbè se c'è qualcuno Sull'isola Scendini Se c'è qualcuno vado via Se c'è 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 Stiamo con le pezze Se venite dove sono io siamo in una zona tranquilla Sì vabbè come cazzo fa? Vabbè dai c'è 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 c Sono due davanti Vabbè i miei colpi ma non si sa Ho preso la scheda comunque regà Ottimo Cioè ma questi sono forti o sono sniper? Non ho capito Dica vengono a sniperarmi qua Giuro non capisco se Me ne hai fatto un cazzo io resto qui Poi moremo tutti No Ma che cazzo Pad di merda scusate Un attimo mi devo curare Ma pure tu che giochi da pad E prima o poi imparerò a giocarci Mi guarda su fortnite Mister titanio grazie mille Mo vediamo Eh ma non so chi è come si chiama Mi quella su Devi correre non abbiamo nulla per curarci Abbiamo fatto più riputa a sta partita Che tutte le partite fortemente che ho fatto Lo so chi è dove è Scusatemi Non sono il number one C'è un reboot qua in safe Ce la fai a prendere l'altra scheda Qua è? Che è poi ce la faccio Intanto se uno prende la scheda E uno fa reboot Poi ci riuniamo Prendo io Prendo io Prendo io C'ho la spada pure Vedi qua la roba Restare mi sa un po' difficile Però devo essere onesto Ma mi sa che spai danno tutti di là Esatto esatto Non è difficile Ci provo eh No no fattivore fattivore Fidati Speriamo di trova qualcosa Ok Servirebbe un cecchino Un cecchino? Sì magari Se volete Ho i shield Quelli grossi Per voi Se volete Provo A vedere se trovo un qualcosa Ma mi sembra più scolgato A madonna ho tipo Dieci Abbiamo fatto un sacco Comunque sono due kill Sì Mi sono morti dentro Pokémon buone Dai Mi sparano Ma che è lì De sta sparando Sì Da sopra Il tetto Ma che è sta arma? Un'altra volta La safe Ma leva 5 No Io così Non dovrei Perde danno Dove erano Quei loot? Ah di qua Dio Cristoforo C'è un team Sopra il castello E infatti Sopra il castello C'è un team Ma è pure lì Sopra È pure lì Lo so Il castello Ottimo E' un boss E' un boss E' un cazzo Questo C'è uno Sopra il castello E' uno da dentro Mamma E' Pum E' Bafangula Mamma Ce l'ho davanti a me Ce l'ho due C'è uno qua Dio Come cazzo Mi ha ammazzato Ah non lo so Come ammazza Qua le persone Ma perché il bot Mi spara Ma pure il bot Ce l'ha con me Ma tutti Cioè sta partita È stata veramente un parto Veramente Guarda il bot Guarda No no Quello non era il bot Quello l'ha ammazzato Allora uno Sotterrato Uno Sotterrato Ma quell'altro È arrivato subito Di dietro Dovevo ammazzarlo E andare via Ammazzarlo andò via Ammazzarlo andò via Devo ammazzar Andò via Ammazzar Andò via C'è dovevo farlo Ma non mi fai che cazzo Mi ha dell'assalto Ragazzi A me mi interessava Solo ammazzarlo Cioè questi qua Uno contro uno Sono una sega Tutti quanti È solo in gruppo Che fanno le bulli Capito Stai Un team intero Contro te Un team intero Contro te Porca Eva No Adesso Uno contro Uno 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 Madonna Il cazzo è partita Dio Cristo Manco Faccio un torneo Io madonna Senti rampino Te lo fai con rampino No non faccio Gitiare pista Sera ragazzi Domani Sopra Sopra No che arma Ma che cazzo di arma È quella buona Ah twitch flinder Flinder Vediamo un po' Stegiatevi su Niente Sono morte 80 volte Come si era messa È andata pure bene Ecco bravo 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 Vediamo un po' Se esiste Esiste uno che si chiama twitch flinder Ma lo vado a cercare Ma va a fanculo Veramente Oh Fl È il balletto per twitch flinder Questo qua Il sniper Ah sta pure in live 76 follower Avviato la live Come è stata una partita terrificante Non ce l'avevamo niente Non ce l'avevamo un cazzo Perché moriremo sempre È passione È difficilissima Con zero bid Ma secondo voi Questo qua stava sniper No dai Ti prego Mi ha iひo comme uh To Christo Addio Dai No Dai Dai Non stava sniper Stava sniper Stava sniper Ma che cazzo di partita assurdo Eh veramente Allora vediamo un po' chi è che vuole giocare con me Allora avevamo detto c'è stava Not su sirvio c'era C'era not su sirvio Che ce l'avevo già tra gli amici mi sembra Not su sirvio Not su sirvio che sta praticamente Not su sirvio Not su sirvio Eccolo Invita nel gruppo Poi c'era Manux profra Manux profra Manux profra Manux profra Manux profra Però è difficile trovarlo Ah questo era quello che non accettava Ok quello che non accettava esatto Su discord salutino per giocare Esatto Su discord per salutino Esatto Su discord per giocare Esatto Allora sì ma questi qua già gliel'avevo mandato prima la richiesta Capito? Dark per quello Manux Ma trovarli è difficile Cioè è più difficile trovare sta gente che Che altro porca puttana Veramente Manux Madonna madonna Santa Come si chiama qui su? Manux Come ti chiami? Aziz questo qua Prima mi aveva mandato il coso Giusto? Aggiungi nickname Ma ci c'è Questo qua è sub Questo è sub Ok Ma come ti chiami? Senti io inizio a togliere tutti Li togliamo tutti ragazzi? Dai iniziamo a levarli tutti Uno per uno Cioè è troppa gente Non so Orco dio noni Non so sbagliato Vino bianco Non so sbagliato Non so sbagliato Vino bianco Connubio Fatal Cosma Maggi qua Rimuovi via Allora devo stare attendo perché se poi Falso fedele No vabbè questo lo lascio Mogli Vabbè Rimuovo amico Cioè tutti quelli che non c'è Nel tag Poi dopo piano piano Li riaggiungo tutti quanti a mano Uno per uno Rimuovo amico Questo qua Led x Non c'ha Il tag Samu Porca madonna Porca madonna Mi sono sbagliato Allora X Perfetto Eh devo iniziare a togliere tutti Cioè nel senso Troppa gente Troppa gente Cioè nel senso Non si trova manco le persone Vedete Cioè non è per cattiveria ragazzi Cioè se mi avete tra gli amici Poi Da un giorno all'altro Me ritrovate senza Mi dispiace Ma Cioè Mi dispiace Eccolo Ok ci siamo Ci siamo Andiamo su discord Allora Allora E mi trovate in difficoltà Ragazzi Perché questo qua Non è intrattenimento Lo so Porca puttana Della madonna Però Non so che fa Ci vorrebbe una persona Che al posto mio Fa questo Mentre io leggo la chat E intrattengo Perché altrimenti è impossibile C'era a casa mia C'era Intrattenimento Ricazzo Si Dark scusami Qua è un casino Della madonna Lo so Tu peggio di me Io qua sto Sto veramente a delirare Guarda Veramente Sto per incazzarmi Guarda Non gliela faccio Io mi sto Per strappare la pelle Dalla faccia Giuro Oggi è stata una giornata Del merda Me sveglio E mattina Andato via Senza dimmi niente Senza salutarmi Senza niente Porco dio Guarda O me dai una mano Porca madonna Se no veramente Qua io chiudo tutto Ma hanno a fanculo tutti Guarda Non gliela faccio più Non gliela faccio più Veramente Per favore Allora Sto a mandare Mi sposti qualcuno Qua sopra Mi serve un altro Un altro ragazzo Per far venire Per favore Non gliela faccio più Sto a delirare Uno ne vuoi? Eh? Ne vuoi uno? Uno Sì Grazie Allora Toghiamo Lui Lo sta Oio? Ci sei? Matteo mi senti? Sì? Eh sì Sono Is R W Ondo Ok Allora Come ti chiami? Scusami che ti invito Eh Dark Puoi scrivergli in chat Perché Ti metto il puntino Su Whatsapp Matteo Sì Grazie mille Tranquillo Eccolo Te sei sub Da quanto tempo? A 5-6 mesi Non lo so Ah Controllo Sì sì Li sto controllando Prima Ok Matteo mi ha mandato la richiesta di unirmi Ci siamo Chi è? Ah Ma in realtà anche da un po' più di tempo Solo che poi ho cambiato account di Twitch Ok Tanto Ok invito al gruppo inviato Ecco Ce l'hai? Ce l'hai? Lì Eh Aspetta che non ti sento Ok Non ti sento solo su Su Discord Mi senti solo su Discord Mi senti su Discord? Ok Ok perfetto Andiamo E ragazzi No Mattia praticamente Oggi Ieri era Ho staccato la live Ieri è venuto qua su Ma ho detto che c'era i problemi E Oggi Gli ho detto Guarda Mattia Pensaci Dormeci su Poi domani pomeriggio Mi sveglio Se vuoi E Ne parliamo meglio Anche insieme a mio padre Parlano insieme a mio padre Se tu te ne vuoi andare via Quello che è Mi sveglio alle 5 E già era andato via Ok Eh Mi dispiace Eh Problemi familiari E Personali Ma Io penso che Un giorno in più Un giorno in meno Non cambiava un cazzo Poteva aspettare fino a lunedì Poteva aspettare Se Gli abbiamo detto pure con mio padre Che cazzo te cambia Mo sta qua fino a lunedì Comunque ho dovuto tornare Assolutamente Prima possibile Super Mi dispiace Perché comunque Sì ma poi ho detto Ok un giorno cambia Infatti io Io ho detto Guarda vai Tranquillo Cioè se c'hai sti problemi Vai tranquillo Poi dopo torna Però torna Vengo qui Un giorno all'altro Espero che io vado bene Ehm Espero che io vado bene Espero che vado bene Comunque Insomma Ha messo in mezzo la merda Perché mo non so nemmeno Come manda avanti youtube Non so se chiude youtube Non so chi cazzo Come fa Il grafico Dalla mattina alla sera Se sveglia Mattei buttati Con l'altro Se sveglia Dalla mattina alla sera Non voglio più lavorare per te Una cosa assurda Dark Ah dark non c'è Vabbè Mattei buttati Sì 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 Mi sono buttato Mi senti? Sì No no Non è cazzate Cioè magari Ognuno c'ha le proprie motivazioni Però quando tu vai a lavorare Da una persona Cioè devi essere professionale Secondo me se non dai nemmeno Se tu non dai nemmeno Un paio di giorni Un paio di giorni De preavviso Cioè Ripeto Io ho investito il mio tempo Per cercare di insegnarti A fare le cose Per farti capire Come si faceva tutto Dammi il tempo Di trovare un'altra persona Almeno Non lo so Così Io e mio padre Io e mio padre Ci troviamo in difficoltà Questa gente Cioè che facciamo C'è gente da te Ma te Lo so Adesso io sparo Una paralisi Vai ma te Chi è oh ci sta qualcuno che vuole qua C'è ci sta qualcuno che vuole qua Ah no 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 Ok che non vuole Oh no passi sinistra 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 Ma te qua Vene qua Eccola madonna No Ho smirato come la maronna Ho smirato come Come la maronna Ho smirato come la maronna Ma io ragazzi Lo capisco che è un impegno importante Ok Ma una persona Professionale Ti dice Ok devo prendermi un paio di giorni liberi Me li dai? Io sì Gli ridavo un paio di giorni liberi Ma no che vai via da un giorno all'altro Senza darmi un minimo di preavviso Porca di quella puttana E mi dici No non posso più Io non torno più Così Ok va bene Era un problema rilevante Ho capito che è un problema rilevante Ma dopo un paio di giorni Torni Dopo una settimana Torni No che mi dici Non torno più Anche perché ora tu stai da solo Mo' mi tocca trovare un'altra persona Però non è quello il fatto Cioè mo' mi tocca Stare lì Ricontattare quelli che avevo già contattato In passato Che gli ho detto di no Cercando di dir Guarda Eh Si è liberato un posto Piano piano Cioè Una rottura di cazzo Cioè Me e mi padre Se stiamo a cervellare Come la maronna Le persone qua Vengono in velleggiatura Cazzo Non vanno così sul serio No non è che non mi prende sul serio Che è veramente Una sfiga dietro l'altra Cazzo Giuro Ma è così però ti lasciano Cioè da solo Ma non è lasciarmi da solo Cioè alla fine Comunque Matti Io sono di Torino Prima o poi vorrò a Montegiberto Cioè to Te posso da un mese De tempo to Vuoi un mese De tempo Te do un mese De tempo Ma non me Cioè non mi vuoi Di che non torni più Cioè Un mese de tempo to Mi posso fare il culo io Per un mese Ma poi dopo devi tornare Che cazzo Vabbè Così Comunque Matti St'estate Vengo a Montegiberto Da Torino Probabilmente Sarà una buona notizia Per te Sul roleplay Poi rimano tutta la fazione Di zona Ma no Non è la buona Cioè alla fine Mi spece per il zona top Coraggio Cioè Mi spece per lui Però ci stanno veramente Delle persone Che a mio parere Non devono proprio Giocare RP Ah Matteo Io quello delle clip Che ti ho mandato Su telegram Ah Eri te Eh si Eh grazie mille Grazie mille Infatti ieri Mi sono servite Mi sono servite Grazie Se vedi colpi bomba Comunque No perché Dicevi scusami Non è che non ti volevo cagare Eh dicevi scusami De Montegiberto Non ho capito Ah no Che dico Abito a Torino Ah Abito a Torino E poi vengo a Montegiberto Ah Vuoi venire a Montegiberto A vive No No Beh Stai stati Oh zitti in boio Sendo persone qua Oh Chi è qua sotto Chi è sto figlio De puttana Qua dentro Dov'è Madonna Eccolo 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 E mori Figlio De puttana Scusami Non volevo Ditte figlio De troia Scusami Che mi ha dato Mi piglia L'adrenalina Della maronna Stava lì Stava zitto zitto Che cazzo fai Chi è qui su Che se muove Che stava aspettando Amici Un letto Stava aspettando Amici Stava aspettando No capito Comunque Sono Scusami Ma L'arma No Se io questa qua Tengo premuto Il tasto Ah no Funziona Funziona L'han cambiata Perché prima Non potevi Ah Se volete Stava Pistoletta Se volete A me non mi piace Ma ora è fortissimo Ma è la pistoletta Ma te Dici Eh Non so Ma non Diciotto 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 Cioè preferisco Non lo so I colpi pompa Alla fine Vabbè Te le va Settanta 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 Mori Tre colpi Invece con la pistoletta Devi Devi colpirli di più Ah perché usi il pompa Oh c'è gente qua C'è gente qua Dove? Eh ma te qua Tanti passi sul castello Ecco lì Ecco lì Do stanno? Qua a destra A destra Una mappa Una mappa Vai a terra Una terra Ma c'è Ui Porca di quella puttana troia Vabbè Ma te mica colpi pompa che ne ho zero Eh? Hai mica colpi pompa che ne ho zero Colpi pompa No 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 Aspetta vieni qua a mano Fate questo Fate questo Oh Oh diavolo Colpi pompa si ci ce l'ho To 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 Pia pia le bombe To Oh le hai vero Eh c'ho solo questi Poi ce n'ho 17 per me Cazzo Se no 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 va bene va bene Ne vuoi altri To to Ne ne ho altri To pia 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 Qua ce ne stanno 5 To Tanto non si trovano Tranquillo Allora la taglia La taglia Qualcosa la taglia Qualcuno No niente Vabbè va bene Allora Manux Te lo si fa Te lo scudo Ah ma non se ne fa Ah ma loro non stanno su Ah ok aspetta Ma loro mi sentono in là Oh me sentite Pronto Pronto me sentite Pronto A te Madonna Eh venite su Discord Dio fa la neve Se no come si fa a parlare Ma te Ma te Se potete chi è Non ti senti Non ti sento Uno Ma non si Non ti sento Non so dove Ah non mi sentite Ma non mi sentite Ma non mi sentite Ma non mi sentite Praticamente Ti ho detto Purate con lo scudo Ma non mi sentite Ma dovete venire su Discord Ma io non posso entrare Nelle Ho una paralisi Come fai Ma nemmeno che può entrare Ma no cerco una donna Cerco pure nongo Non è che non cerco Cioè A me non cambia niente Uomo donna Cioè L'importante è che sia una persona fidata Non è che metto dentro casa una persona Così che non conosco, capito? Che magari se droga Che cazzo ne so Può succedermi la cosa può succedere Poi sono a fare i tuoi Eh? No, dico, poi c'è un problema I tuoi sono a fare i tuoi È anche una responsabilità Una madonna, cioè una volta uno Cioè, ho invitato Non vi dico chi, non vi dico chi, ok? Sentivo una puzza Ah, sì, quello dell'armadio No, 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 poi dicevo Porca madonna Dicevo, ma che cazzo è sta puzza? Poi dopo scopro che dentro la valicia C'aveva mezzo chilo d'erba Ma porco Dio Se me venne una finanza dentro casa Di vicini chiama Cioè, mo posso capire che ne so Una dose personale Ma mezzo chilo d'erba Comunque amati su Discord Usciamo così Perché mi hai detto Eh, no, aspetta, aspetta Parliamo in game Parliamo in game E' appunto, dico su disco e basta Sì, 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 vai, vai Vieni su disco Vieni su Ma Cioè, nel senso Sì, sì, ma a me e mi padre Vi ci sono successe cose assurde, paranormali Cioè, metto, eh Perché da te pensavo che c'era Dovevo stare a minimo 3-4 mesi Allora mi sono fatto un carico Cioè, una scorta Madonna Ma è giocino, c'era Arriva, arriva, arriva Sopra, sopra Sopra, sopra Sopra C'era una busta Una busta E lì Che piglio te ne ha paradisi Eh, ne ha paradisi Esatto, bravo, bravo, bravo Ne ha paradisi Bravo Eh, lega Oh, ci sente dietro Uno è morto Uno è morto Io c'è pure un cicchino qui su Ok, allora lo Io faccio il giro Io faccio Matteo Eh, ok, ok, andiamo Arrivo Non, 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 non Non, non, non E che piglio al 5 E non E ne è gravi Che Bravo Grande, Matteo Eh, porco ladro Il motore di cui io Chi è grande qua Ui, ui C'è gente qua Non me, da me, da me Dai Un altro team, un altro team Mi terra uno E ne è qua C'è un altro Dove? 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 Questa Vai, vai, capa, capa Bravo Questa è vinta Arrivo e pusho Vatti Morti No, sparano Ah no, c'è una terra qua Dove? Ma te vuoi il cicchino? No, 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 no Ma chi è che spara? Dio fa la neve Da dietro Dietro Meno uno Ok, meno uno Meno uno Sono morto Dove sta? Eh, ero qui Uh Arrivo, arrivo Tra casa Come già ne? È una maronna Ma te pensa che ti guardo con mia mamma Ma che te bot è Eh? Ah, costumai a me sta guarda? Sì Ok Ma che te bot simulator qua? Ma che maronna è? È meglio Meglio, meglio È meglio sì Però, che cazzo è? Ok, ci sta l'isola Ragazzi, l'isola 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 tra Tra poco ci sta l'isola Vai E andiamo, andiamo, andiamo Io push Go push Go push Fermete Io Stai scendendo? Fermete Eh, qua no Come si fa ad andare? Ah, sul... Go push È troppo distante Io, fermete Perdio santo Dio Ma che sono migliorato Ma Vabbè, sparare non è che ci vuole Chissà che Dai Da me, da me, da me Dove, da te dove? Chi è? Chi è che parla? Mi devi dire il nome Notte Sirvi Ok, arrivo Eh, Sirvio Aspetta un attimo Morto Senta chi lei Sopra 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 la cosa L'hai, spara, spara Sopra lì, se la stanno? Sì, sì, già Già Oddio No Ma abbia te la pavido Grazie Che sta succedendo, raga? È volato dalla montagna Morrivo, ma è grave Sopra la montagna No No Siete in due Un atterrato Ma te se non riesci a stare lì buttati giù No, 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 già faccio Aspetta, mi vedi questo 3, 2, 1, ok Questa un'altro? Un'altro, un'altro Dove? Via, via, via Io Corri, 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 corri Andavo Morto Bravo Bravo 162, 62 Pazzo Pazzo Pumetate E facciate E facciate E facciate la finestra, porca Da me un'altra Gigi Vai, io Andiamo sopra l'isola Sopra l'isola Immediatamente Io, vai, vai, vai Come l'ultima L'ultima te che? Pia le schede Pia le schede Dio padre Io Stai scendi? Come le schede? Eh, ok, ok Ah, sono vivi Sono vivi Sono vivi Siamo vivi Siamo vivi Sì, però quando RP? RP mai ragazzi Mi dispiace domani Hermilio Niente RP oggi Eh, ma Hermilio Si vede sempre ogni giorno In chat Per io Sempre RP Mi chiede RP quando? Non ti salutano Esatto No, nemmeno mi dicono Ciao Matteo Come stai? Quando è che porti RP? Come ti butta la giornata? Passami un attimo questo No Quando fai RP? DJ Pazzo Dio Cristofo L'ordolorato Scusami un po' per favore No, no, quello lì Dio, mo prendiamo una bella Oh, chi è Dio? Chi è? Eh, eh Arriva gente Arriva gente Dio, prendiamo l'arma L'arma, quella mitica è via Oh Uè No, no, no Ma chi è Dio padre? Non c'ho l'arma Eh, qua Ma stai qua Ma stai qua Ma stai qua E' qua E' dentro al foco E' dentro al foco E' dove sta l'ufo Borca troia E' dove sta l'arma Eccola, eccola Ok, via, via, via Possiamo andare Andiamo via Andiamo via Andiamo via Possiamo andare Possiamo andare Dove? Verso dove? Verso dove? Verso la 6 Ovvio Ah, però aspetta Non c'è nessuno Non c'è No, però basta Stare qua Perché ci fiusciano Come se ci fiusciano Scappiamo Scappiamo Ok, bene Eh, ma io non c'ho la spada Ange la spada E allora andiamo via Andiamo via So, a nuovo Volevo chiedere Se è per te Quello che fa GTS Sì, quando Qua ci sono le jumps E voglio andare in safe Eh, ok Andiamo via Ah, dove cazzo vado Vado al contrario E ci stavo seguendo Pensate In safe Allora, in safe Dove andiamo? Dove andiamo? Oh, oh Qua sotto c'è gente C'è gente qua Gente qua Gente qua Gente qua Andiamo Sul castello Ma vedo Il castello qua Sì, sì Ma stanno qua sotto Da sta parte qua E da sta parte qua Stanno Ci sparano Ci sparano Ci sparano Da qua Una terra Io li puscio Come la merda A sinistra A sinistra Bravo Bravo Dove stanno? C'è una terra qua Dov'è che a terra? Dov'è che a terra? Ci sono due a terra Occhio, occhio, occhio A terra Madonna, quanto faccio schifo Chi è questo? Ah, pensavo fosse un amico C'è il... Passiamo il record di kill In streaming Cioè, quant'è? Eh, non lo so Siamo a 32 kill Matte Ah, eccone uno Dov'è? Lo vado a pusciare È là la... 38, 38 Ok, io 25 white Era proprio white Era super white Super white Sì, lo vado a pusciare Vai, pushamolo, vai Dai, di baici Non morì, eh Ma che stava a fare? Che stava a fare qui? Eccolo, eccolo Io Comunque Matte si è migliorato da un sacco Ma che è migliorata la maronna No, davvero, davvero Sì, Dio, padre Sì, Dio, padre Oh, da sinistra, sinistra, sinistra Qua Spettacolo Dietro di noi, dietro di noi, dietro di noi Matte, io, è dietro Dietro, Matte, dietro Magna Ma chi cazzo è il mo' dietro E non lo so, faccio uno dietro Porco disco No, sì, c'è porco dio No, porco disco La pregna del Camaron 39 Puglia fuoco qua No, 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 no Sì, occhio Ma te ne vedo me Urca diavola Batte da me Ma che cazzo è con sta arma de merda che mi stava sparando, non ho capito chi era Che era quell'arma del cazzo Non lo so, l'abbiamo ucciso però Ma che era quell'arma del cazzo È il porco dio Dico io Ma se muoveva, saltava, faceva, sparava 37 Aiuto Io questo No Devo correre Io, io Eh, te combina il rassame Eh, niente, niente Non metto una torrente Vabbè, dai, vincete voi, dai Vincete voi per me No, ma te che vinciamo 37 kg di squadra C'è uno dietro, c'è uno dietro, c'è uno dietro, c'è uno dietro, francis C'è uno dietro, c'è uno dietro, c'è uno dietro l'arbero, eh, credo Mori Oh, 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 eccolo, 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 hai visto Manu Occhio, 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 manu Dio, padre, Dio Eh, vabbè, eh, questo perché è uno stronzo, vedi Questo qua mi ha ammazzato a me Grande, godo, porca puttana, godo Mori Godo, bravo, così si fa Così vincito Ficca io dentro, dentro un bucio del ucuro, ficca io 41 kg, cazzo 41 kg No, come no Tieni, tieni Oh, dove vai Oh, scappato Dov'hai? Oh Oh, parco Dio, dove vai? Matteo, è uno v'uno Ma dov'hai? Uno v'uno E beh, porca Madonna, che fai? Non riuscivo a rispettare Matteo, mi sento l'ansia E beh, è l'ansia, ho capito che c'è l'ansia E l'ansia, beh, non un resi? Oh, zitti, zitti, che non c'ho la mira, zitti Non c'è la mira, zitti Non c'è la mira, eh? Eh, lo so Questo sto toccando da controller Ma secondo me non c'è manco qualcos'altro Fermi, 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 zitti, fermi Ma vai l'RSA, c'hai gli scusi Eh no, troppo lontani, troppo lontani Non c'è il camion del resto Ma dov'è? Dov'lieto? Dentro non c'è spuglio Dentro non c'è spuglio, stai, sicuro Matteo, questo è da canale? No, non è da canale Uh, dietro, dietro, te l'avevo detto Yo, bussero, bussero, bussero Eh là qua E år io to larvelo mettele Yo, yo, spara, spara JojGEI 일an la наша Eh ne va io Orko dia Mardodiu Yo Matteo, Matteo mi dedi che un buono È buono Matteo, 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 Senti un po' sfumeggiande Sì, il camaroni 18 quilo, ho fatto a Sche제�ge quem, Xiott, Infatti ermate spomeggian dei spomeggian dei ragazzi a moda canale e moda canale andiamo sul disco da andiamo a vestiti stanno i ragazzi che vogliono giocare ci vuole bene ciao 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 allora vediamo un po se ci sta dark ultimo game con le ultime persone vediamo un po se c'è gente che vuole giocare su discord sub ma te o queste qui non hanno giocato ancora da qui ok non l'hanno amicizia ma è sub o non è stato tutti sabato allora l l pt ce l'ha l'amicizia già saigo pure questo penso se l'hai chiamato gioco l pt mirko vediamo un po se accetta non mirko già è un amico mio quindi nickname sub ok invita nel gruppo poi ci abbiamo praticamente allora poi chi c'è sta dei kings l'ultimo che ho scritto come si chiama sono tutti sub l'ultimo che ho scritto ciao bello allora dei kings 51 94 a questo non lo trovo no no o ce l'ha già l'amicizia ah sì questo ce l'ha già ce l'ha già ce l'ha già ecco perché mi ricordo poi 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 chiama uno di questi due vedi non sa lui quale uno di questi due vedi chi è è la stessa persona però non sa quale di due deve darti eccomi mattei wey vieni su discord ah certo arrivo io pure allora qua dimmi un po dark è l'ultimo è la stessa persona devi vedere tu quale di due funziona quale scusami mi devi dire l'ultimo l'ultimo ok aggiungi ok vediamo un po appena accetta oh così funziona preciso ci abbiamo le persone belle precise perfette amico mio perfetto aggiungi nickname sub e via questo si chiama bono hs cazzo bono hs via poi ci abbiamo farzo fedele vabbè questo nel senso lo lascio lì rimuove amico mister h no oddio dio del dio me so sbagliato porco dio porca madonna tutti gli angeli in colonna eh scusate ragazzi me so sbagliato rimuovi 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 mettiamo che può entra pure con i bun di canale eh ma è tosta non so se sta un po' a ripulire eh più o meno più o meno più o meno più o meno eh insomma quanti sono 2000? eh no 5000 porca troia eh puoi dirlo forte infatti poi ti darò sicuramente l'account di epic games e me ne devi rimuovi uno per uno per uno per fare te metto la macro no no senza macro sabrina ce l'ha s sabrina 2001 il sab mi pare sì 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 sabrina 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 pecorina lui mi pare che ce l'ha la sab però non mi ricordo io ce sto pure io tra i tuoi amici eh? ce sto pure io tra i tuoi amici ah vabbè è molto levo allora no ma vaffanculo chi è? crash ciao crash come stai? madonna quanto tempo non te vedo più eh veramente ho quasi un mese eh una maronna tanto tempo eh veramente sì sì niente devo trovare qualcuno che a mano me li leva tutti quanti a mano uno per uno porca troia è veramente una ruttura del cazzo guarda se lo trovo lo devo fassando cioè veramente giuro allora qua se sta a smaltire un pochetto? Matteo non credo se sono 5.000 davvero ma no ma secondo me tra quelli online ha capito? bacci e no questo era sab mi pare era vabbè comunque lo metto tra le sab bacci lo conosco allora allora str psycho questo qui ok ci siamo ci siamo ci siamo qua c'è simon oxonzo allora perfetto madonna santa dio allora ok ci siamo quelli che stanno in lobby con Matteo trate attesa live ok poi chi era? era psycho da far venire nel gruppo bono hs eppure da far venire nel gruppo credo the kings sì allora è the kings era poi ci stava bono hs si chiamava bono hs e eppure precisi ci siamo vai no che risa squadra fermate figlio fermate allora zero in attesa live dovevi entrare sì sì grazie grazie è il mio top numero 1 assistente veramente quando avrai bisogno di soldi di lavorare bellissimo vieni da me che insomma marca io te l'ho detto oi? sì ci sto ci sto 1 allora qua mi dicono che i zunatop abbia ma veramente i zunatop mi hai snicciato la pulizia? il ladro di gentiluomo ciao bello grazie mille della sub eccolo dimmi un po' come ti chiami dimmi un po' come ti chiami il ladro di gentiluomo ti ho tolto mi pare non mi ricordo se l'ho levato o meno non mi ricordo se l'ho levato eh ho messo pronto mi sa che l'avevo l'avevo tolto mi sa non mi ricordo si si mettete pronto è The Kings se l'ho levato mi sa che l'ho levato mi sa che l'ho levato comunque no tutti belli precisi qua c'ho dentro qua tutti quanti sub buonasera Matteo ciao ciao ah eccolo è lui? è lui il ladro gentiluomo? no è The Kings è lui si 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 no è lui è lui ah lui dice no dice un gioco ah ok sab ok perfetto ma grazie mille il ladro gentiluomo è bello troppo gentile si si poi abbiamo giocato un sacco di volte insieme non è perché mi lo fa togliermi perché c'ho troppa gente capito vi faccio vedere raga a me non mi fa non mi ha fatto mettere pronto rimettetelo come no siamo già in partita noi come? non ci stai? allora torniamo in lobby eh no mi si è bacato torniamo in lobby eh sì eh sì scusa no no tranquillo ok succede non succede niente tranquillo io la sarò da pallino se no Michael come te chiami ma quando tornerai Enrico? Enrico domani ah domani? ok dovrei esserci Psycho devi tornare alla lobby ah sì aspetta è troppo oh io ma bisogna tornare in lobby eh sì perché sarà che baggasse comunque vi faccio vedere quante richieste c'ho quante persone c'ho in in tra gli amici 4.400 cioè io devo dare veramente una bella smorzata a tutti i ragazzi devo tenere solamente le sub solamente gli abbonati eh? ma io lo fai offline eh lo so lo so però tra gli amici Epic Online per cercarli adesso come fai? cioè è troppa cioè è difficile capito tra gli amici 4.300 porca la troia andiamo? mettete pronto e andiamo vai è un secondo che sto tornando ok sono tornato oh no sì sì già fatto già fatto il ladro grazie mille stasera che mangiamo qual è la ricetta con i fughi? ehm la lorcina la boscaiola non c'ho la salsiccia e come fai Banzi con Cooper ce la fai? eh? uno per uno a mano è follia perché poi ci stanno pure questi qua con tutti tranne questi qua con scritto sub non sub è follia pura come no? ah! cazzo scusami non c'ho il programma attivo mi sei riavviato eh oggi sto con la testa sulle nuvole ragazzi scusate c'è ragione veramente non vedo l'ora che viene domani porca troia così ci sta Enrico una bella compagnia precisa eh ma Michela Benefico viene? sì viene stai inciato Enrico eccolo adesso è scritto no dico Michela bene per Enrico ah no non l'ho contattato ancora ah ok lo vediamo andiamo 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 io devo andare andiamo la cittadella sono attivi ragazzi sono attivi gli alas sono attivi scusate ragazzi ma c'ho avuto un piccolo problema un piccolo problema allora dove andiamo ragazzi andiamo la cittadella no ma andiamo la cittadella vai e io allora andiamo amicina a pecorina no sono troppo asciutto io 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 andiamo 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 ma che sto spammi nel cuore me fa per Enrico e per Enrico per fare dopo questa vuoi giocare con te muoiamo ma del melone 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 ok meno uno vediamo un po' dove stanno gli altri da me da me uno lo so ammazzato buono allora qua ce ne dovrebbe sta un altro qua in Dria perchè non c'ho mezz'arma io qua ecco un po' è un R per il mirato meno uno arrivo arrivo se ho bisogno d'aiuto no 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 ma io non c'è che c'ho tanto bisogno io ok oddio che d'è ok meno uno che si è se grullo eh no che sei grullo ah grazie grazie no no ultima ronna sono ecco ecco ultima è che è che stai che pozzo le borca troia stavo sparare qualcuno non so come tocchiera e ci stavano l'agista buss vai te copro pinga è ma sta lontanissimo sta sta lontano lontano io faccio io ho fatto 25 ma c'è bisogna bussare la mano c'è una fk laggiù 26 33 è atterrato dice ma sta gente non sa nemmeno a che gioco sta a giocare secondo me ma il seno infatti la gente che non è botta e che dai si si no mi servirebbe una spada subito ecco qua era il mondo dove mi spara adoro gioco ma pure lontano gioco oh no vabbè si c'ho bello manco le manco le formiche ma ci ho fatto niente zero ma che si sono botte veri c'è andrew tate ci parte vuole la chiave la chiave e no cazzo è che mi sta a chiamare porca scusate un attimo che mi stavamo chiamare ma chi è porca ok chi è chi è chi è chi è dio cristo ok mi servono corpi bomba se ce l'avete vi ringrazio a vita mi piace grazie grazie sono belli precisi io ciao ah grazie mille enrico un abbraccio affettuoso ma dormendo pure io un abbraccio affettuoso ciao bello grazie mille enrico vieni fammi salire io namo 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 ok yuhu eheh yuhu lo dico io eheh sparano eh certo però ho praticamente non c'è un cazzo c'ho che c'hai qua un'armetta de merda tutto bianco c'ho tutte armi bianche c'ho va bene va bene va bene non è un problema io sono un glaxon andiamo qua che ci sta il coso ah sparano a destra a destra la verso la verso la andiamo la a destra ci verso la andiamo sparano 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 dopo andiamo al piaccio in guna a pigliare la bandiera pronti 3 2 1 che caffera ok meno uno che c'avea a te tieni la katana ti è eh che c'avea qua non ho capito tieni via questa la katana la katana ci sta ah mo arrivo un attimo si è tua apri un attimo qua l'arma ok arrivo ok ah c'è la katana perfetto bella precisa per te ma questa è proprio bella precisa grazie mille andiamo andiamo c'è qualcuno c'è? o è finito? andiamo andiamo? allora io non so qua se c'è qualcuno qua dentro maiala che paura oh 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 c'è qualcuno c'è qualcuno c'è uno ho sentito bassi eh ho sentito bassi ma che cazzo ma voi sentite bassi qualcuno? eh sì ma scusami eh non è che è questo non ci sto più capendo niente ah ok 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 allora questo qua è che cagata i bassi vabbè prendiamo la macchina andiamo tutti sulla macchina vai oh spara no spara sta giusto ha atterrato uno questo pure oh no spara no ancora spara arriviamo grande Matteo meno uno GG ah mi ha salvato il culo eh questa è buona oh oh c'è uno qua uno qua uno qua uno qua ah sì quella moto spigliatelo non è possibile vai atterrato ok atterrato porca troia quella troia oh ma per quanto poco cazzo non lo so ammazzato GG ah 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 è un bug se sali sulla moto oh chi è che mi spara ok eh vieni crash ok perfetto perfetto preciso ok questa me la piglio io e questa pure me la piglio io perfetto andiamo yuhu vai vai la banda dei castori ah 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 questa me la prendo io guai che me la tocca eh va vai tranquilli vuoi pure questa me la piglio io ah c'avete una chiave qua eh no aspetta ah no non ce l'ho grazie prego questa è perfetta io andiamo a vincere oh ha mosto messo veramente bene allora vediamo un po' un attimo eeeh ci sta la chiave è qua la chiave è qua il bunker là andiamo la sicuramente ci sta persone ci sta persone sicuro andiamo andiamo io non so eh eh la ci sono persone sicuro al punto viola ok ok io uso la spada eh non so voi se ce la vede io spara non la eh eh noi andiamo a fare lo coso là ok a te piccola domanda ok andiamo là andiamo là fai la si si arrivo ma te calcio lo segui calcio no ma che ma che calcio no 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 io no niente calcio ok io altri sport io altri sport eh non lo so no 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 altri sport no ok io spara spara ok c'è una katana perchè io so stralento senza la scheda la scheda chi è la presa presa la scheda la katana eeeh ora la troviamo se ci sta ma vediamo si si va benissimo non ho trovato nemmeno quelle chiavi ok eh la tempesta raga sta la tempesta eh si la tempesta dei peccati vabbè tanto e' mo' ci sta sta la cosa tranquilli tranquilli pieno di roba chi c'ha la scheda ok vai io apri tutto scondo tutto scondo no ok ehi c'è cosa dei cose ecco la paura seconda vai stanno i succhi ok i succhi perfetto chi è che ha preso lo succo ok perfetto chi è che manca c'è manca qualcuno all'appello ma adesso è qua giù ok aspetto qua giù l'arma prendi il bagno il bagno no non è possibile ci manca un'arma una bomba scusami ma non c'erano quattro bomba di solito chi è che hanno preso due ma raga qualcuno ha preso le bombe ma io no qualcuno ha preso due bombe vabbè non so chi ma qualcuno ha preso due bombe sicuro ma io ne ho una ah io no perché ero qua giù faccio un po' ma questa c'era nera eh dove sì sì ma tu che usi dopo eh c'è una mitraietta e botta vabbè io questo ok io andiamo raga spari da me dove dove stai ok andiamo all'isola sull'isola sono verso mi salto sì sì andiamo verso l'isola verso l'isola ragazzi andiamo ah ma 4 3 4 3 4 ne trovi solo 2 a cavo 2 a cavo c'è un massimo ma è una cagata pazzesca è una merda no beh era troppo forte era troppo forte cioè in realtà era veramente OP era veramente OP come Roma dai cioè diciamo io Erano troppo Erano troppo Cioè se veramente ci stavano due HV erano Oh sparano a destra Vieni 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 Grazie mille Grommola Un bacio enorme Grazie mille anche un berigno TV Grazie mille Marzo 90 Chi è? Raggiù laggiù Vedo gente qua Sendo persone qua Sendo passi qua Sendo passi là Ok buscio Ma porca diavola morta È rimasto con uno scudo Oh che cazzo che devi essere una parola Si scende sopra No 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 Vogliamo busciare o no? Sopra non lo so Ditemi voi Ah no no Sopra no Ok 5 ii morti Ma che c'hanno di infiamma Eh non lo so È tipo un gecchino Non lo so Ah ok Dove stai? Dove stai? Che adesso Ok c'è pure lui Sì 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 Orca diavola morta Che demo Che demo Che prima Come una partida prima Quello preciso Che per me Eh ragazza qua Ragazza qua No Cazzo Psyko Eh fissa Eh Mia per un mille Ma davvero Per un millisecondo Davvero Stanno sotto Bono Ok c'è uno qua C'è uno qua C'è uno qua Atterrato? Dove sta? Dove? E mori Bono Panculo assorata Oh e me pio pure l'arma Ok pia tutto Pia tutto Pia tutto Pia Ok C'è gente ancora? Ok Eh bisogna restare le persone Eh sì Psyko bisogna restare Ok Un attimo solo Che mi sono un attimo Over eccitato Un attimo solo Ok Perfetto Arrivo Arrivo Vengo andata una mano Ah ok Penso fosse un nemico No 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 Io 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 Ok andiamo in sé No Eh là dietro c'è Il loot se volete Io Se vuoi eh Non lo so Ok Eh non lo so C'è pure le spade Volendo lì Dove abbiamo fettato? Lì C'è gente? Oh c'è gente che è qua che vola Sì sì Ah eh sì che viste Un dimmi Un dimmi Un dimmi Un dimmi Eccolo Eh non lo so Se ci vuoi andare Boh Oh namo namo No scappiamo Scappiamo No no che scappi Che scappi Ci vai bello duro? Ok Matte is on fire Da me fuori te Sì 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 No però io scappo via No Uno qua da me Uno qua da me Eh sì ho visto i passi Fatto 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 Eh uno morto Eh guarda guarda Mi verrebbe voglia Di vestiti mia Come una maronna Perché? Eh non lo so Perché qua Mi fanno prendere paralisi Questi Oddio Che tera? Ok Ok perfetto Ok 10 kg Chi è qua? Ok ci sta un altro qua Perfetto Ci sta gente? Ha the shield? C'è gente qua Non ho capito C'è gente qua sotto? No Vedo persone Vedo persone Vedo persone Ok venga Eh là dietro Là Ok vado Vedo persone All'amo Eccola ecco C'è il cecchino Eh occhio eh C'è un cecchino Non so quanti ne sono Ah laggiù Ok Ehi Ehi Uno quasi a terra eh No Vaffanculo La fissa Della madonna Veloce No mi aiuto All'altro Yo Cardi 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 C'è gente? Ecco si Sono qua sotto Ci mettiamo Tutti qua Eh ma qua è Tosta eh Ma ce la vediamo Spade Facchiamo Sì però Oppure lì pushiamo Non lo so Io sono senza shield Aspetti mi faccio Uno di questi Perché sennò Ti ammattere uno Sì ti è Bello preciso per te Matteo posso? Sì è questo? Eh eh Sì 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 Raga raga da sopra Eh porco di amico Cazzo occhio C'erano pure i cecchini Allora Andiamo via Eh scappiamo Scappiamo Ma dove cazzo sono? Cavolo gli ho fatto 100 Eh porro Oh cazzo Eh raga no raga no Porca troia Uh huh Eh io non c'ho Due cecchini Tre cecchini Dieci cecchini Ci sta 100 100 100 Uno qua Un atterrato Un atterrato Un atterrato Un atterrato Raga uno è quasi morto Vai un atterrato Bene qua stronzo Sì Ma viene il dio Cristo dio Bravo Matteo Come era questa partita Matteo È buona Oh È buono sì cazzo È buono sì cazzo È buono sì Grande Matteo È buona sì cazzo Sì cazzo 13 kg Yo 13 kg 13 5 6 Io Matteo Ragazzi Vi ringrazio Vi ringrazio Ammo vado in cucina Perché si è fatta una Buon appetito Matteo Grazie mille Ciao bello Ciao Ciao Bellissimo Ciao ciao Fantastico Buon appetito Allora No no ragazzi Io non è che chiedo la sub Però veramente Ci stanno tante persone Capito Quello è il problema Che vogliono giocare con me Tanta gente che trolla Poi Capito Chi è ancora che fa Ah ok Ciao ragazzi Ciao 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 Ma che è successo su impero Non ho capito Su impero che è successo? Non ho capito Quello è successo Ehm Richiami Esito Assistenze È stato bannato Izuna Non ho capito Ok Atticiamo